Piero Calamandrei, la fede nel diritto, avvocatura e costituzione. Il Consiglio Nazionale Forense, in collaborazione con la Biblioteca Comunale e Archivio Storico Piero Calamandrei, ha organizzato in occasione dell'Ottavo Congresso Nazionale di Aggiornamento Professionale a Roma una mostra sul rappresentante illustre dell'avvocatura, che con i suoi aforismi ha segnato la formazione di generazione di giuristi in Italia. Piero Calamandrei, con le sue riflessioni, le sue conferenze e il suo impegno civico, ha posto una pietra miliare nella coscienza democratica del paese. Con i suoi scritti sull'avvocatura ha anticipato il dibattito ancora vivo sul futuro della professione. Piero Calamandrei aveva così fede nel diritto che, parlando a degli studenti dell'Associazione Cattolica nel gennaio del 40, quando la guerra era già incominciata in altri stati e l'Italia non si sapeva se avrebbe diritto o no, aveva detto che, di fronte a questi tempi bui, in questo momento di grande crisi, noi dobbiamo avere fede nel diritto perché il diritto, nei suoi fondamenti, tutela i valori della società e quindi può essere un appiglio. L'ordinamento giudiziario, a parte sulla magistratura, che ancora oggi è un titolo di merito per l'Italia, viene criticata da alcune parti politiche, ma rappresenta un modello per paesi dell'Europa che ci invidiano e cercano di copiare, come l'indipendenza del pubblico ministero ad esempio, è una parte che si deve in misura ampia all'apporto di Piero Calamandrei nell'Assemblea Costituente. Piero Calamandrei è stato nell'ultimo decennio della sua vita presidente del Consiglio Nazionale Forense e ha sempre valorizzato la sua attività di avvocato, accanto a quella di costituzionalista e di professore universitario. La sua memoria andava spesso agli avvocati che si erano battuti per la libertà anche sotto il fascismo e alcune delle sue commemorazioni migliori sono dedicate a grandi figure di avvocati. Io mi auguro soprattutto che al di là degli avvocati e anche chi ruota intorno al mondo degli avvocati in generale possa apprezzare attraverso questa piccola esposizione questi personaggi e forse ritrovare anche le motivazioni ideali di un agire che molto spesso purtroppo diventa spura routine. Grazie 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 Grazie